Responsabilità penale e civile dei sindaci Ha approvato una mozione per rivedere le norme L'atto, proposto dal Partito Democratico, è stato approvato dall'Aula con voto unanime Fumata nera in commissione regionale La votazione relativa alla designazione di un rappresentante regionale per la Fondazione Monte dei Paschi di Siena È stata rinviata, divise le posizioni di maggioranza e opposizione Una normativa, quella relativa alla responsabilità penale e civile dei sindaci Che deve essere rivista e riformulata È quanto richiede l'iniziativa promossa dal presidente di Anci Nazionale, il sindaco di Bari Antonio De Caro Fatta propria anche da tanti amministratori toscani È approvata in con voto unanime da una mozione presentata dal Partito Democratico Nel corso della seduta di martedì 13 aprile dell'Assemblea Toscana Difatti, la mozione impegna la giunta regionale a sostenere in ogni sede utile L'appello promosso dal presidente di Anci e sottoscritto da migliaia di primi cittadini Giudichiamo opportuna la sollecitazione del presidente De Caro Ha dichiarato in aula il consigliere Massimiliano Pescini, primo firmatario della mozione Il consiglio regionale ieri ha scritto una bella pagina unanime Di vicinanza ai comuni, ai sindaci e agli amministratori Nel senso migliore del termine Il Partito Democratico ha presentato una mozione Nella quale si chiedono cose semplici Riprendendo l'appello che il presidente del Anci Nazionale De Caro Ha fatto al Parlamento Perché si modifichino alcune leggi che riguardano la responsabilità civile, penale e amministrativa Dei sindaci e degli amministratori Il fatto scatenante è quello di Piazza San Carlo a Torino Dove la sindaca Chiara Appendina è stata condannata per quello che è avvenuto il 3 giugno del 2017 Ma di fatti come quello che riguardano la sindaca di un grande comune Ce ne sono migliaia ogni anno in tutta Italia Proprio perché i sindaci sono in trincea Hanno responsabilità infinite E hanno talora anche attribuite delle competenze gestionali Che se meglio precisate potrebbero sgravare Precisare meglio tra l'altro gli incarichi dentro la pubblica amministrazione Dal punto di vista tecnico e dal punto di vista amministrativo E sgravare gli amministratori da un fardello troppo pesante Perché spesso a queste competenze formali non corrispondono poteri sostanziali E viceversa C'è un'azione legislativa da fare Non per de-responsabilizzare nessuno I sindaci non chiederebbero mai questo Non lo chiederebbero neanche i cittadini Ma per distinguere bene tra indirizzo politico-amministrativo e gestione delle cose Sapendo che il sindaco rimane il responsabile legale dell'amministrazione Ma che sulle grandi questioni gestionali e sulle piccole questioni gestionali Un sindaco spesso oltre a non avere competenze Non ha nemmeno la facoltà di poter incidere veramente Abbiamo discusso e apprezzato una mozione presentata dalla maggioranza Che chiede al governo di intervenire normativamente Per in qualche modo ridurre le ipotesi che oggi sono eccessive Dal punto di vista delle fatti specie incriminatrici Sulla responsabilità penale dei sindaci E nel nostro paese dalle leggi Bassanini in poi La responsabilità per gli atti viene sempre a carico dei dirigenti Ma rimane il profilo di responsabilità a carico dei sindaci e dei presidenti della provincia Perché sono considerati capi dell'amministrazione Il caso è scoppiato per le vicende note del sindaco Appendino di Torino La quale è stata condannata per i fatti avvenuti in una piazza Per i festeggiamenti di una squadra sportiva Ci sembra francamente un eccesso Considerato appunto non solo la differenziazione tra ruolo politico e ruolo tecnico-dirigenziale Ma a maggior ragione Questo comporta due contraddizioni Una a livello delle città più grandi Perché ogni sindaco ha migliaia di dipendenti E decine e centinaia di funzionari e dirigenti Può anche non conoscere e quindi non è obbligato un sindaco a conoscere tutti i propri dipendenti Ma soprattutto tutte le regole che devono essere seguite Nei piccoli e piccolissimi comuni questa situazione sta generando un problema serio Perché non ci sono più persone che si prendono la responsabilità di candidarsi E di guidare le comunità Perché i rischi sono eccessivi rispetto naturalmente al pur bello impegno Che tutti noi svolgiamo facendo politica Quindi è un problema serio, un problema che abbiamo posto votando questa mozione al governo Speriamo che arrivino risposte puntuali Perché in alcuni casi le indagini Sia per l'abuso d'ufficio ma anche per l'omissione di atti d'ufficio In casi particolari poi alla fine cominciano Ma si risolvono solo dopo molti anni con la soluzione Sicuramente oggi fare il sindaco è uno dei ruoli più complicati Fare il sindaco espone tantissimi amministratori Anche giovani amministratori a assumersi la responsabilità anche dei fatti Per i quali onestamente una responsabilità diretta degli amministratori non è ascrivibile Il messaggio deve essere chiaro Il governo deve farsi carico sotto questo aspetto Di intervenire modificando il testo unico degli enti locali Perché oggi lasciare esposti gli amministratori a responsabilità Ripeto che sfuggono anche proprio dalla loro armi e ambito di controllo Rischia poi di disincentivare anche l'impegno Soprattutto dei giovani nell'attività amministrativa Oggi non è facile fare politica Non è facile soprattutto assumersi le responsabilità Che governare un territorio implica Ed è necessario secondo noi che ci sia una proporzione Rispetto all'impegno che viene chiesto sui sindaci Ai sindaci quotidianamente sul territorio Nell'affrontare le emergenze Rispetto a quello che sono le tutele Che oggi li lasciano troppo esposti Questo è un messaggio che vogliamo mandare appunto al governo centrale Perché gli enti locali ritornino ad essere al primo posto nella politica nazionale Sindaci, amministratori Devono essere considerati in un'ottica di riguardo Non si può pensare ai comuni solo per scaricare sui sindaci responsabilità Ma devono essere messi nella condizione di lavorare E di avere anche le risorse necessarie per investire sui territori È troppo facile a volte lasciare soli chi amministra E poi appunto lasciarli poi in balia di quelli che sono eventi e responsabilità Che ripetiamo talvolta non sono loro ascrivibili Quindi occorre mettere mano immediatamente al testo unico degli enti locali Nuova fumata nera in commissione regionale La votazione relativa alla designazione di un rappresentante regionale Per la fondazione Monte dei Paschi di Siena È stata rinviata a nuova data Divise le posizioni delle forze di maggioranza e opposizione Beh, niente di particolare Sostanzialmente come quando si fanno le nomine C'è bisogno di prendersi del tempo per approfondire tutti i curriculum Quindi siccome potevamo contare su qualche giorno in più Abbiamo scelto di approfittare di questa possibilità Ecco perché la commissione è stata aggiornata Intanto a domani mattina In attesa di una comunicazione ufficiale Da parte della fondazione Monte dei Paschi di Siena Normale routine Quando si devono fare delle nomine Solo che questo ovviamente essendo particolare Qualcuno ha pensato bene poi E di relegarla a chissà quale scenario Quindi provvederemo nei tempi previsti Come ci è stato comunicato dalla fondazione Ho avuto solamente una normale discussione Come è giusto che sia All'interno dei profili che si sono presentati Quando ci sono dei curriculum da valutare Si valutano e si studiano È normale in un partito che avvenga questo E lo vorrei sapere anch'io Vorrei sapere anch'io Perché noi dobbiamo fare una nomina Come in Regione Toscana In un momento in cui la deputazione Si trova a dover sciogliere il nodo Sul contenzioso tra banca e fondazione Che è un giochino che smuove qualche milione di euro E che smuove e che è fondamentale Per il futuro della banca Arriviamo stamattina in commissione E apprendiamo che il Partito Democratico Ha pensato bene di fare tutto da solo Senza chiedere un parere all'opposizione Senza coinvolgere l'opposizione Ma a questo ci siamo abituati E poi evidentemente non è riuscito A mettersi d'accordo al proprio interno Tanto che ci chiedono ancora 12 ore di tempo E probabilmente la nomina arriverà domani Il nominativo Questo la dice lunga su come questo partito Ha gestito negli ultimi 50 anni E continua a gestire MPS MPS è roba loro È cosa loro E di conseguenza si decidono i nomi In base alle correnti interne Al gruppo di maggioranza Noi oggi chiederemo l'UMI Se vogliono il coinvolgimento dell'opposizione Noi siamo disponibili Sia ad analizzare i curricula Di chi si è autocandidato A un importante ruolo E quindi scegliere non per vicinanza politica Ma per curriculum Sia a presentare curriculum di professionisti Stimati e apprezzati sul territorio Che potrebbero andare a ricoprire quel ruolo Se non ce lo chiedono E continuano a gestire la banca e la fondazione Come fosse cosa loro Ne pagheranno le conseguenze E si assumeranno le responsabilità Che potrebbero Grazie.